Squadra mobile, polizia amministrativa e locale hanno passato al setaccio diverse strutture alberghiere nella zona della stazione di Mestre, via Piave e via Fratelli Bandiera a Marghera. Si è trattato di accertamenti amministrativi finalizzati a evidenziare situazioni di degrado e criminalità. L'attività della questura mira infatti a verificare la regolarità nella gestione delle ricezioni alberghiere, sia per evitare mancate identificazioni degli ospiti, sia per contrastare la permanenza eventuale sul territorio di persone che possano costituire un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico. Negli hotel sono state così rintracciate due persone già destinatari di un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Venezia. Una è una donna sospetta borseggiatrice, l'altro straniero è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, pertanto affidato all'ufficio immigrazione che ha avviato l'iter amministrativo per procedere alla sua espulsione. Grazie a tutti.